Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Posso parlare normale? Cazzo di gioco weird Ti fai full bunkerato allo spawn 40 secondi penso che li tieni tranquillamente Tutti i bg difensivi Ma come c'è la carta quella per spostare i site bro? Se li sposti nello spawn C'è ridicolo Capisco che è leggendaria ma... Aspettate, metto anche la luce da serial killer Si dai, prendi la mano Avete capito? Piedi? Ragazzi chi è che ha fatto la clip? Chi è che ha fatto la clip? Eh? Eh? Chi ha fatto la clip? Più i piedi? Comunque, no ragazzi il gioco è diverso Un po' di fumo è... Un po' di fumo è... Un po' di fumo è... Eh, no, c'è un altro team Un altro team Un altro team Un altro team Ah, io sono morto manco posso aprire il paracadute io giocaccio manco possa aprire il paracadute tutto baggato vedevo tutta scala io mio sto gioco che tilt questo è il casco che faccio mettere a tutti si acqua pelata che non fasse male quando ma ha trombo con blu mi avete sottofondo scusa mi ero scordato col cerchietto rosa scusa no smettila tu perché devi mettere in discussione tutto quello che dico vabbè ma non mi sembra il momento giusto per parlare queste cose cercherò di raggiungerti e di tirarti su ora se non ti dispiace puoi portarmi via da questa maledetta torre ti prego Matt fai qualcosa e ma non abbiamo il flare sto arrivando ce l'ha lui josh uno dei suoi giochetti o grandioso se quella cazzo di cosa ha preso josh beh tanti saluti no non so mai che è possibile cosa è possibile potrebbe averlo portato giù nella miniera ho visto cose orribili la sotto credo che sia la tana di quella cosa e ha ha anna ok no le gai due di arco ah 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 posso parlare normale Aller! Die, Roma, die! Die, Roma, die! I'm here, motherfucker! No! 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 Mi sa niente coccoline! No, mi sa niente coccoline, raga! Raga, qualcuno c'ha qualcosa da droppare di umano? Dico? Vuoi un M4? Se ce l'hai sì, ma troppi! Aspetta, vado a gamblare, vado a gamblare! No! Praticamente lui chiede... Porco due, che merda! Ah, ok! Allora vai, chiedi l'arma! Come cazzo si fa? Vai sull'arma che... Ask for it! Vai, prova! Grazie, capo! Tanto non mi piace molto! Vabbè, basta! Oh! Passi! Da dove ce l'ho venuto io? Sotto? Bot? Ma la substation ha già lottato questo? Aveva qualcosa? Bot si posto io! Era un player! Era un player! Era un player! Ah! Motto diretto! Usando che... Usando aimbot e wallacks! Wallack! Qual è la differenza tra wallacking e wallack? Come? Wallacking vuol dire che lo stai usando! Wallack è il wallack! Nome e il vero, cioè non il verbo! Cioè sostantivo e... Cosa e il verbo! Quindi c'è una differenza eh? E beh direi che un po' di sì! Davvero? Sì! Però lì dovete... Buon po' di sì! C'è un bezzardo per lì eh? Ehm... Cos'è anche a svicciare raga? Dacci! Se nel mondo ci fosse un po' di bene. E se ognuno... Ehm... Avevano presi al sorriso Andate a puttane... Grazie.